Oggi vi darò qualche consiglio per migliorare notevolmente le vostre fotografie di interni e di architettura. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e come ormai sapete sono un fotografo che fa video su YouTube. Faccio questo per vivere, per cui tutto quello che vi vado a raccontare è frutto dell'esperienza ormai di anni. Se avete cliccato questo video posso dedurre che vi interessi la fotografia di interni. Vi segnalo quindi che c'è online su Amazon il mio manuale di fotografia di interni che mi rendo conto ha un costo di copertina un po' antipatico ma purtroppo quel costo dipende quasi esclusivamente dai costi di stampa e spedizione di Amazon. Al sottoscritto arriva veramente la briciolina. Vi segnalo comunque che è una lettura interessante per chi vuole approfondire questo campo. E non dimenticate di iscrivervi al canale adesso attivando anche la campanella. Tutti quelli che lo faranno avranno il 30% di possibilità in più di trovare degli ottimi clienti in ambito fotografico. Oggi vi parlo prevalentemente di angoli. Lo so che sembra strano. Vi parlo degli angoli di cui dobbiamo tenere conto nel momento in cui realizziamo fotografie di interni. Il primo angolo di cui vi parlo è l'angolo che dobbiamo mantenere se vogliamo avere le linee verticali perfettamente dritte. Ora riuscirci è molto facile però dobbiamo essere consapevoli di cosa questo comporta. Noi vogliamo che le linee verticali della nostra architettura dei nostri interni rimangano perfettamente dritte per non avere lo spiacevole effetto di vederle imbarcare in una direzione o nell'altra. Questo è un effetto sicuramente sgradevole. È sgradevole per l'occhio perché il nostro cervello corregge automaticamente queste distorsioni. Quindi noi quando osserviamo una geometria la vediamo perfettamente dritta. Quindi risulta sgradevole vederla storta in fotografia. Per questo motivo cerchiamo di scattarla quanto più possibile vicina a come la vediamo nel momento in cui siamo in loco. Potremo poi apportare delle migliorie in postproduzione ma più ci avviciniamo in camera è meglio sa va. Mantenere le verticali dritte è molto molto semplice. Quello che dobbiamo fare è semplicemente mantenere il nostro obiettivo parallelo al terreno e perpendicolare ai muri. Fondamentalmente l'obiettivo della nostra fotocamera deve tenere un angolo di 90 gradi con l'asta del treppiede. Ovviamente è quasi più facile farlo che dirlo. Fondamentalmente bisogna guardare in camera e assicurarsi che le linee verticali siano dritte e questo si fa posizionando correttamente la testa del nostro treppiede. Ovviamente vi dico questo considerando che il pavimento sia piano e che il treppiede sia posizionato con le gambe pari. Se ci sono problemi tipo di pendenza o altri tipi di problema derivanti magari da una pavimentazione irregolare bisogna fare un pochettino di attenzione in più. Facciamo conto di essere su un pavimento liscio, lineare e assolutamente pianeggiante. A questo punto con il nostro treppiede posizionato dobbiamo semplicemente assicurarci che la nostra fotocamera sia fondamentalmente in bolla. Questo lo possiamo fare anche semplicemente con la bolla sopra il nostro treppiede perché se siamo in bolla sulla testa del treppiede significa che siamo paralleli al terreno. Attenzione, questa è una buona misura di partenza però bisogna sempre stare attenti al fatto che le architetture, le geometrie non sono sempre dritte. Talvolta ci capitano degli appartamenti, delle case, delle residenze, dei castelli, qualsiasi cosa, quello che vogliamo, che magari hanno delle geometrie storte perché i muri possono essersi assestati col tempo, possono esserci stati dei piccoli cedimenti strutturali, possono esserci dei difetti di progettazione o dei difetti di esecuzione nella medesima e quindi quello che noi andiamo a fotografare può non essere perfettamente dritto. Dobbiamo fare un pochino di attenzione perché se noi ci limitiamo a mettere in bolla poi magari ci troviamo qualcosa di storto e invece potremo correggerlo subito. Basta guardare, se ci rendiamo conto che nonostante siamo in bolla la nostra fotografia risulta un po' fuori, facciamo un mini aggiustamento in maniera tale da correggere le verticali e in questo modo avremo meno lavoro da fare una volta tornati a casa. Ora un conto è l'angolo che noi facciamo tenere alla nostra camera, ma per quanto riguarda l'altezza ci sono soluzioni diverse a cui possiamo pensare. Ovviamente più in alto posizioniamo la nostra macchina e più soffitto andremo a prendere, mentre più in basso la posizioniamo e più pavimento andremo a prendere. Ora io per esperienza personale vi posso dire che normalmente, in ambiti normali, io mi tengo la fotocamera più o meno tra l'ombelico e il mento. Quindi un'altezza che può essere diciamo compresa tra un metro e trenta e un metro e sessanta, più o meno. Questa è l'altezza a cui io metto quasi sempre il mio treppiede nel momento in cui fotografo degli interni normali, quindi degli interni di un appartamento o di una residenza o di un ufficio, insomma con un soffitto tra i tre e i quattro metri. Questo è un indizio di partenza in realtà, non dovete seguirlo alla lettera perché dipende da che cosa state fotografando. Nel momento in cui stiamo fotografando degli interni con mobili molto molto bassi, vi faccio un esempio, se stiamo fotografando una palestra con dei tatami in terra, è inutile che alziamo tanto la nostra visuale perché tanto quello che stiamo riprendendo è tutto basso. Viceversa se stiamo fotografando un magazzino con degli scaffali molto alti, ecco che probabilmente dovremo sopraelevare il nostro punto di osservazione, anzi potremo anche doverci sopraelevare noi con tutto il nostro treppiede, potremo dover salire su un tavolo o sulle zanche di un muletto o su qualcosa insomma per farci sollevare e farci portare all'altezza media di questi scaffali molto alti che vogliamo fotografare, altrimenti se li fotografiamo dal basso, quello che succede è che questi scaffali fanno così e sembra che ci stiano cadendo addosso, l'effetto è molto sgradevole. Man mano che noi sopraeleviamo il nostro punto di osservazione, gli scaffali tornano a riposizionarsi verticali e quindi correttamente posizionati. Ovviamente noi possiamo regolare l'altezza del nostro treppiede ma siamo un po' limitati in questo perché i nostri treppiedi hanno una regolazione limitata, spesso non possiamo andare più in basso di tot e spesso non possiamo andare più in alto di tot. Normalmente un buon treppiede raggiunge il punto di osservazione di un uomo adulto, quindi 1,70-1,80 di solito gli treppiedi non vanno oltre. Nel caso in cui ci servisse andare più in alto dobbiamo salire su qualcosa, nel caso invece in cui ci servisse scattare da più in basso è molto raro, che se siamo più in basso della portata minima di un treppiede vuol dire che siamo praticamente a terra, però a quel punto possiamo ricorrere a un treppiedino da tavolo o addirittura posizionare la nostra fotocamera sul famoso sacco di fagioli. Ma queste cose non succedono quasi mai, posizionando la fotocamera più o meno all'altezza del petto dovreste andare tranquilli nella maggior parte delle situazioni. L'unica cosa da tenere conto è magari se ci sono dei mobili dentro alla stanza che stiamo fotografando. Se ci sono dei mobili magari bassi in primo piano magari possiamo voler abbassare un po' il nostro punto di osservazione in modo da non tagliare i terminali bassi dei mobili che abbiamo vicini. Viceversa se abbiamo dei mobili alti potremmo voler alzare un pochettino il punto di osservazione per non tagliare la parte superiore di questi mobili o di qualsivoglia oggetto ci sia in fondo alla stanza. Questa è l'unica cosa di cui dobbiamo tenere a mente una volta che abbiamo correttamente posizionato l'angolo della nostra fotocamera. E una volta posizionato questo angolo per esperienza mia lo cambieremo molto poco perché una volta che siamo in un ambiente più o meno potremo tenere quell'altezza per gran parte degli scatti salvo poi voler mescolare le carte e fare qualcosa di particolare. Parliamo ora di un altro tipo di angolo ovvero l'angolo di campo. L'angolo di campo è fondamentalmente la visione che noi abbiamo. In questo momento l'angolo di campo che voi avete di me fa così e quindi vi consente di abbracciare una porzione abbastanza piccola del mio studio ve lo dico perché io sto girando con un non me lo ricordo più è un 31 mm sulla psc quindi diventa un sarà un 50 mm più o meno che a me non piace però in questo caso funziona bene. Quindi è una porzione piccola un grand'angolo vi permetterebbe di vedere una porzione maggiore quindi un angolo di campo più ampio. Nel momento in cui stiamo fotografando interni l'angolo di campo è molto importante ovvero è importante avere un angolo di campo ampio perché le stanze spesso e volentieri ci mettono in condizione di dover fotografare degli spazi anche piccoli da vicino. Se io sono in una stanza non è che posso indietreggiare per fotografare l'interno di quella stanza sono dentro nella stanza e devo rimanere dentro alla stanza per fotografare la stanza medesima quindi non posso indietreggiare magari posso uscire dalla porta però è solamente uno degli angoli magari per gli altri angoli non posso indietreggiare oltre quindi sono contro il muro il muro dietro di me e devo fotografare lo spazio che ho davanti e ho bisogno di un angolo di campo sufficiente a catturare la stanza intera quindi l'angolo di campo è molto importante per questo motivo in fotografia di interni si utilizzano quasi sempre dei grand'angoli che siano più o meno spinti dipende dal tipo di lavoro e dalle preferenze del fotografo nel mio caso io ho lavorato per gran parte della mia vita col 17 mm quindi 17 40 di canon una lente con cui mi sono sempre trovato bene ma il che non mi ha impedito di passare al 16 35 quindi un pochino più grande angolare con cui riesco a prendere un pochino di più un angolo di campo lievemente maggiore recentemente sono passato sempre con canon al 14 35 un'ottica che ho recensito di cui vi lascio il video linkato qui in card è una lente che nonostante sia piena di difetti è piena di difetti colossali primo fra tutti il prezzo costa veramente troppo secondo me ciò non di meno mi consente di abbracciare un angolo di campo molto molto vantaggioso per fare fotografia di interni con cui riesco sempre a catturare la stanza per intero in qualsiasi tipo di contesto in qualsiasi situazione qualunque stanza io stia fotografando con un'ottica di quel tipo riesco sempre a portarmi a casa il lavoro perché ha un angolo di campo così ampio che riesco sempre a catturare tutta la visione che mi interessa senza tagliare fuori nessun dettaglio che reputo essere essenziale un altro vantaggio di utilizzare una lente grande angolare nella fotografia di interni ovviamente è la profondità di campo sapete che nel momento in cui utilizzo un'ottica grande angolare la profondità di campo sarà più ampia quindi la maggior parte del mio fotogramma sarà a fuoco viceversa se utilizzassi un teleobiettivo la profondità di campo sarebbe più sottile quindi farei più fatica a mantenere tutto a fuoco nel mio fotogramma nella fotografia di interni voglio tutto a fuoco non è una fotografia artistica o evocativa e quindi voglio tutto a fuoco perché la fotografia di interni si fa per illustrare quello che è uno spazio quindi deve essere tutto a fuoco un osservatore deve essere in grado di rendersi conto esattamente di che tipo di spazio ha di fronte e veniamo a esaminare l'ultimo angolo di cui vi parlo oggi ovvero l'angolo della nostra ripresa nel momento in cui fotografiamo interni è vero che esistono dei contesti delle stanze particolari in cui possiamo giocarcela in maniera simmetrica è vero ciò nonostante il mio consiglio è di cercare sempre di scattare dagli angoli nel momento in cui stiamo fotografando una stanza sia questa quadrata rettangolare o triangolare se è per quello noi cerchiamo di scattare le nostre fotografie dagli angoli questo perché perché a differenza di una visione simmetrica che non ci darà una bella idea di com'è lo spazio e non ci darà tanta profondità e non ci darà una vera idea di come sono collocati gli oggetti nello spazio una fotografia scattata da un angolo ci offrirà una visuale normalmente più ampia ci permetterà di includere una porzione dell'interno maggiore ci permette inoltre di realizzare fotografie da tutti gli angoli nella maggior parte dei casi quando io fotografo una stanza quadrata o rettangolare faccio tutti e quattro gli angoli ogni tanto ne faccio tre nel caso in uno degli angoli ci sia un magazzino delle scope fare l'angolo opposto e quindi prendere in pieno il magazzino delle scope può essere molto brutto quindi a volte salto un angolo ma altrimenti li faccio tutti e quattro scatto tutti e quattro gli angoli in maniera tale da avere la visione completa di quella stanza su tutti quanti i lati a parer mio scattare dagli angoli ci permette di illustrare meglio uno spazio e ci permette di dare al nostro cliente la varietà che desidera nel momento in cui gli consegniamo il servizio in questo modo sarà lui a decidere magari quali angoli usare se usarli tutti se usarne uno solo come disporle se dare evidenza a una e mettere le altre di seguito sarà il cliente a decidere a quel punto in base a suo gusto noi gli abbiamo fornito delle immagini che per noi a livello tecnico sono tutte buone la difficoltà maggiore ovviamente quando si scatta dagli angoli è la collocazione dei mobili caso mai ci fossero dei mobili dubito che stiamo scattando una palestra dove non c'è niente nella maggior parte dei casi avremo dei mobili la grossa difficoltà è la collocazione perché spesso e volentieri avremo magari un salotto con delle poltrone su un lato e quindi scattare dall'angolo dove ci sono le poltrone potrebbe essere difficoltoso in questo caso dobbiamo essere noi a scegliere se barare un pochino e spingere le poltrone un po più in mezzo alla stanza per includerle interamente nel fotogramma oppure se spostarle un pochino e scattare in mezzo alle poltrone escludendole dal fotogramma dobbiamo essere noi a prendere queste decisioni e lo dobbiamo fare cercando di dare la visione migliore possibile ovviamente se posso dare un consiglio basato anche sul mio gusto personale di solito noi cerchiamo di includere per intero quello che fotografiamo all'interno del nostro frame quindi se abbiamo una poltrona sul lato di cui vediamo solo il bracciolo secondo me è meglio spostarla fuori dal fotogramma e non prenderlo proprio viceversa se abbiamo un mobile che è posizionato in un certo punto del fotogramma e ha un pelino di gambetta fuori lo tiriamo dentro in maniera tale che si veda per intero questo è quello che faccio io di solito ovviamente questo procedimento deve essere ripetuto su tutti e quattro gli angoli perché io faccio il primo angolo e sposto due mobili per avere la scena giusta poi vado nell'altro angolo magari non vanno bene come li ho messi magari devo fare un altro mini aggiustamento e spostare le cose di nuovo lo faccio per tutti gli angoli fino a quando non ho finito è un lavoraccio certo è noioso a volte però vi garantisco che avremo dei risultati molto molto migliori quando torniamo a casa e il nostro cliente sarà contento dei risultati che abbiamo ottenuto e probabilmente ci chiamerà di nuovo ovviamente bisogna fare anche un ragionamento bisogna dirsi quanto mi stanno pagando questo lavoro mi pagano abbastanza ho il tempo di fare tutti questi aggiustamenti spesso capita che ci pagano poco per il nostro lavoro ci pagano troppo poco per fargli tutti questi aggiustamenti e queste migliorie e allora noi possiamo decidere di non fargliele però deve essere frutto di un ragionamento conscio noi dobbiamo essere consci che il modo giusto il modo migliore di fare il lavoro è questo nel momento in cui abbiamo un cliente diciamo per esempio un architetto un cliente che è disposto a pagarci tanto mettiamo in campo tutto il nostro sapere per fargli il lavoro nel modo migliore possibile nel momento in cui viceversa abbiamo un cliente che non ci paga quello che noi vorremmo comunque che ci paga poco a quel punto è ovvio che il patto diventa io il lavoro te lo faccio però tu mi paghi poco io te lo faccio in fretta non te lo faccio bene lo faccio rapido perché mi stai pagando poco a quel punto noi possiamo fare una scelta possiamo decidere di investire su quel lavoro e quindi farglielo bene lo stesso per averlo noi come portfolio io spesso lo faccio anche se non mi danno la cifra intera magari io dico a me stesso però questa è una bella scena è un bel interno è un bel qualsiasi cosa sia e allora io decido di fotografarlo bene lo stesso magari perché spero che il cliente mi richiami quindi è un investimento oppure semplicemente perché voglio quella foto per me e allora mi prendo più tempo per farla però noi possiamo anche decidere ovviamente dicendolo chiaramente al cliente se il cliente ci paga troppo poco noi possiamo decidere di fargli un lavoro non dico fatto male però possiamo decidere di non fare certe cose quindi per esempio possiamo decidere di lasciare la stanza esattamente com'è i consigli sugli angoli però rimangono tutti quanti validi e siccome sono sicuro che avete imparato qualcosa sono qui per ricordarvi di mettere un bel like a questo video vi ricordo anche di iscrivervi attivando anche la campanella perché guardando le statistiche vedo che solamente il 30 per cento di voi è iscritto al canale io vi consiglio di iscrivervi subito in maniera tale da non perdere i prossimi contenuti amici non mi dilungo oltre fatemi sapere nei commenti se qualcuno di questi consigli vi è stato utile se lo sapevate già se avete imparato qualcosa grazie come sempre di aver passato un po del vostro tempo con me e io vi do appuntamento al prossimo video iscriviti al canale